Un autogrill, quello che vedete alle mie spalle, ed esattamente l'uscita di Pieve Santo Stefano Nord è già chiuso. I prossimi probabilmente lo saranno. Nelle prossime ore, nel deserto della E45, rischiano di morire tanti posti di lavoro. Solo in questi due autogrill, assieme all'albergo, sono in gioco 30 posti di lavoro. Ma nelle due valli, interessate dalla chiusura della E45, quella del Savio e del Tevere, sono molti di più. Insomma, è un dramma. È un dramma. Basti pensare, il nostro affitto ad autogrill è calcolato solo in percentuale, quindi zero incassi, zero affitto. Se non venisse riaperta, che cosa chiedete? Agevolazioni fiscali, qualche tipo di ammortizzatore per i dipendenti? Che cosa chiedete? Purtroppo il contratto del turismo, in contrattazione nazionale, non ha previsto per il turismo né mobilità né cassa integrazione. Quindi chiediamo se è mai un risarcimento, la possibilità di rivedere gli studi di settore, qualsiasi forma che si possa venire incontro. La sospensione delle rate di mutui, noi paghiamo oltre 160 mila euro di rate di mutui. Questo albergatore ha anche deciso di venire incontro ai tanti pendolari che magari, anziché fare due ore di auto in più tutte le mattine, si possono fermare qui ad un prezzo sociale. Sono cinque notti, una settimana quindi di lavoro a 70 euro, il pernottamento in una camera singola. L'imperativo è fare presto o riaprire la E45 o sistemare la vecchia Tiberina Trebis. Siamo molto penalizzati, perché noi, specialmente il sabato e la domenica, i romagnoli si fermavano tutti qui perché vanno a mangiare a caprese, insomma vanno a andiari. La superstrada che poteva chiudere per un evento si poteva immaginare, però l'altra strada bisognava tenerla aperta.